Va alla Manetti Castelfiorentino il primo round dei quarti di finale di play-off del campionato di Serie C Gold. I fiorentini, dopo aver contenuto la sfuriata iniziale dell'Amen, hanno saputo gestire con attenzione la partita vincendo 81-63. La partenza dei ragazzi di coach evangelisti è stata positiva, la SBA infatti è riuscita a conquistare qualche lunghezza di vantaggio in avvio, non riuscendo però a concretizzare quanto di buono fatto a causa di qualche errore liberi e di conclusione da sotto sbagliate. Con il passare dei minuti Castelfiorentino si è rimesso in carreggiata, chiudendo il primo quarto avanti 22-18. Il momento buono della squadra di casa è proseguito nel secondo parziale. Castelfiorentino si è conquistato molti secondi tiri e grazie a 10 punti di fila di Delly Carri è andata a riposo sul 45-33. A rientro in campo dagli spogliatoi, l'Amen prova a reagire ma in ogni occasione viene ricacciata indietro dagli avversari grazie a Corbinelli e Scali. Due triple nel finale di quarto di Brandini e Castelli riavvicinano Arezzo che al trentesimo è sotto a 63-51. Negli ultimi dieci minuti la SBA trova il meno 9 ma è solo un fuoco di paia perché Castelfiorentino amministra il vantaggio con attenzione, riuscendo anche ad allungare definitivamente fino all'81-63 finale. Adesso la serie si sposta al Palasport Estra con gara 2 in programma giovedì alle 21. L'Amen cercherà la vittoria per allungare la serie e per farlo servirà una prova difensiva di altro spessore rispetto a quanto visto in gara 1. Fondamentale che in questo campionato gli Amaranto hanno dimostrato in più di un'occasione di avere. Fondamentale Fondamentale